ecco questo siamo a quota 15 15 come anni da me personalmente in questo campetto solo solo il mio amico non voleva venire perché ha detto che vuole andare a fare le pesche ed è rimasto come il mio amico invece stava ancora a cercare quello ferito e io sono solo la roba bella fresca fresca siamo un bel ragottino ciao ciao